E mi piaceva condividere una riflessione un po' ironica. Intelligenza, intelligenza artificiale. Mi chiedevo, ma perché intelligenza? Parliamoci con questa intelligenza. Cioè diciamogli al nostro cellulare. Cioè senti un po', ma Giacchetti chiami intelligenza? Perché? Tu vuoi educarmi alla tecnologia? Tu oggi mi vuoi educare ad imparare questa nuova app, che non lo so, è l'assistente di Google o qualsiasi altra cosa. E quindi mi stai chiedendo di investire risorse, energie, affinché apprenda questo come se fosse un'arte. Quindi io dedico un impegno oggi affinché domani possa usare questa tecnologia e diciamo con maggiore efficienza, maggiore soddisfazione nella mia vita, esprimermi di più. Chiaro, lo potrò fare quando avrò imparato ad usarla, perché attualmente per ora è un investimento. Quindi intelligentone. Tu mi stai chiedendo di investire adesso in questa nuova tecnologia che mi stai offrendo allo scopo di arrivare e giungere ad un'idea che tu che sei molto intelligente ti sei fatto oggi di quello che dovremmo fare nel futuro, di come dovrà essere organizzato l'essere umano dentro e fuori di sé nel futuro. Bene intelligentone, allora tu mi dici oggi investi in questa app, impari a usare questo nuovo strumento, così domani sarai felice in questo modello sociale che io che sono molto intelligente ho già pronto per te. Ma se sei così intelligente come puoi non comprendere che tu stesso che stai facendo di tutto intelligentone per diventare sempre più intelligente, quindi stai investendo l'80% delle risorse mondiali anche economiche nel migliorare te stesso diventare sempre più intelligente allora immagino che capisci anche se ancora non sei completamente intelligente che se tu diventerai più intelligente poi cambierai necessariamente e aggiornerai, migliorerai il tuo modello sociale l'idea di modello sociale che hai oggi quindi una cosa sicura è che oggi hai un'idea del modello sociale che grazie alle migliorie che tu affronterai nei prossimi anni ovviamente sarà perfezionato questo modello sociale quindi andrai in un'altra direzione infatti tu stesso intelligentone cinque anni fa avevi un'idea diversa del modello sociale tant'è che non consideravi la blockchain oggi invece vuoi considerare la blockchain? Sì, no, non lo so intelligentone cos'è che vuoi fare? però tu sappi almeno ricordati che oggi tu che non sei perfetto che hai un livello di intelligenza 5 hai un'idea del mondo ma dovrai poi cambiarla quando arriverai a intelligenza 6 e via via dicendo a intelligenza 7 eccetera ma volta per volta tu quindi mi proporrai a me povero essere di carne di utilizzare un'app differente perché ci sarà stato un upgrade un update c'è stato un'app di qualcosa che si è migliorato perché se ti migliori tu si migliorano anche le app però già che hai già notato se sei appunto intelligentone che noi non stiamo seguendo una linea ma a seconda del periodo le tendenze tecnologiche vanno verso una cosa piuttosto che un'altra quindi non essendoci linearità non è che noi se impariamo usare Word 95 dopo siamo già capaci di usare Word 2015 già che dobbiamo ogni volta reimpararlo di nuovo tu mi stai dicendo che secondo te è molto intelligente per noi imparare oggi un qualcosa perché poi in vista appunto di una sua applicazione futura che non avverrà sicuramente già su carta perché tu ogni 5 minuti migliori quindi fai un upgrade e quindi mi darai un altro strumento e quindi se io imparo a fare i video in diretta su YouTube nel 2014 poi nel 2015 devo imparare a programmare la diretta stream YouTube perché non mi danno più lo strumento ma poi nel 2016 lo tolgono quindi non c'è problema perché poi nel 2017 invece lo rimettono ma in un altro modo quindi io devo continuamente cambiare non è lo stesso modello che viene perfezionato quindi intelligentone tu stai continuando a cambiare modello proprio riconoscendo la base elementare di quello che sto dicendo che se una persona o un intelligentone artificiale vuole evolvere deve cambiare e se cambia cambia poi punto di vista sulle cose e se cambia punto di vista sulle cose e già che lo sta cambiando in maniera esponenzialmente è sempre più frequente perché gli upgrade e gli update una volta erano una volta ogni tanto adesso sono una volta ogni poco per arrivare chiaramente visto che è esponenziale ai prossimi anni dove ci sarà un aggiornamento costante e già alcuni software sono già costantemente aggiornati giusto? quindi è una cosa che muta di continuo e assieme a lei a questa idea del mondo che l'intelligentone si fa muta continuamente anche l'insegnamento agli umani quindi noi dobbiamo apprendere e investire continuamente per imparare cose che non useremo mai questo non mi sembra molto intelligente